Mancano sette giorni al referendum costituzionale, sette giorni anche al funerale di Fidel Castro che come tutti sappiamo è morto ieri, figura storica, controverso, da alcuni amata, da altri odiata. Marcello Fora da Milano. Sì, certo, lo scenario è molto interessante, diciamo che però la morte di Castro non cambia fondamentalmente le cose, cioè il fratello Raul che già gestisce il paese da alcuni anni ha già avviato un disgelo progressivo con l'America, per cui da questo punto di vista è una morte simbolica. Riguardo al giudizio storico, quel che dice Fusaro riguardo il pluralismo è certamente condivisibile come ogni forma di libertà, è vero che il regime cubano non può essere giudicato in maniera oggettiva se non si fa strazione delle sanzioni perché è stato un regime che ha vissuto per molti decenni sotto sanzione e questo sappiamo benissimo a cosa comporta. E' anche vero che la storia ha dato più volte possibilità ai regimi socialisti e soprattutto marxisti di dimostrare quel che potevano fare e la storia ha sempre dato un verdetto abbastanza univoco, cioè il bisogno di essere socialisti, giusti, di condividere, di dare sfogo a questi ideali che in sé sono molto nobili si trasforma quasi sempre in un regime che è dittatoriale o comunque monocratico e infatti credo che non possa essere aditato come un modello un regime dove c'è stato un leader maximo, un leader unico per così tanto tempo e questo non è sano nessuna fase della storia e ovviamente men che meno a Cuba. Secondo me su Trump dobbiamo essere più realistici, Trump sta dimostrando in queste prime fasi della sua quasi presidenza di essere molto più pragmatico e realistico di quanto appariva in campagna elettorale. Non dimentichiamoci, Trump è un uomo d'affari, Trump è un uomo che ha alcune priorità e sa bene che riuscirà a realizzare solo una piccola parte di quel che ha promesso in campagna elettorale. In questo contesto Cuba andrà letta in base a quella che è la sua gerarchia. Secondo me Trump continuerà la campagna di Obama e la politica di Obama è molto semplice, punta a far crollare in modo naturale quel che resta del regime cubano sapendo che dietro a Raul Castro poi non c'è nessuno e secondo me io non vedo elementi di rottura. Poi questo scandalo, tra virgolette, vedremo a che effetto avrà, però insomma una cosa del 98 non lo so, non mi sembra molto politicamente sensibile. Su Putin, e lo sottolineo, e sono convinto che ahimè oggi è un grande statista, l'unico forse insieme ai cinesi che si sta imponendo sulla scena internazionale, ma lo sta facendo attraverso degli strumenti che sono gli strumenti tipici delle dittature. No, no, forse voleva intervenire. Definire Putin un dittatore come se fosse, ma veramente, mi sembra veramente assurdo, ma qui stiamo veramente delirando, cioè signori Putin, la democrazia russa può essere rimessa in discussione, però c'è un sistema elettorale politico, ci sono delle elezioni, ma francamente definirlo un dittatore secondo me è un'assurdità. Poi se vogliamo parlare della Siria, ora il caos siriano è dovuto principalmente, oggi lo sappiamo benissimo, al fatto che Arabia Saudita, Qatar, Emirati e gli stessi Stati Uniti, perché hanno appoggiato questo processo, hanno armato dei gruppi fondamentalisti islamici, sia sotto forma dell'ISIS, sia sotto forma di questi gruppi, tra virgolette, moderati, che hanno provocato la guerra civile che dura da cinque anni. Per cui, se vogliamo analizzare la politica estera con serietà, vanno messe in fila tutti gli elementi e individuate in modo chiaro e responsabile le responsabilità di ogni paese e in questo senso la politica estera americana degli ultimi anni non è certo un modello di saggezza. E per fortuna che Putin l'ha contrastata. Vedete, tutto ciò che non è allineato con gli Stati Uniti d'America dall'89 ad oggi viene dequalificato e delegittimato come dittatura, anzi di più come nuovo Hitler. Dove c'è un nuovo Hitler ci può essere poi la nuova Hiroshima, cioè il bombardamento necessario. Ecco perché Saddam era il nuovo Hitler, Gheddafi era il nuovo Hitler, Putin è il nuovo Hitler, nuove dittature ovunque, cioè chiunque non si identifichi con il modello liberale occidentale è una dittatura. Modello liberale occidentale che certamente è la libertà per la classe che detiene il valore di scambio per fruirne, ma per l'altra classe, quella che è sottoposta all'estorsione di plus lavoro e allo sfruttamento, cioè la classe dei più, una massa oggi precarizzata fatta dalla vecchia borghesia e dal vecchio proletariato, peraltro, dissolti dall'elite finanziaria, non si chiama libertà, si chiama sfruttamento, non si chiama globalizzazione, si chiama lotta al ribasso nella competitività con i paesi come la Cina e l'India. Tutte le magnifiche bellezze della mondializzazione sono tali per la parte dominante dell'elite, non per la massa proletaria e post-borghese che sta subendo tutte le contraddizioni di questa mondializzazione. Allora, le dico una domanda veramente importante, che è quella se l'Italia è una democrazia sufficientemente matura per l'accentramento dei poteri del Premier come sostiene la riforma. Sì, allora, che l'Italia sia una democrazia matura la risposta è sì, che questo sistema sia positivo, per me la risposta è no, perché un accentramento dei poteri così forte va a togliere, va a incidere sul bilanciamento dei poteri, sui contropoteri che sono naturali, si dà troppo potere al Premier e questo secondo me è molto negativo perché va a incidere proprio sulla nostra democrazia, per cui secondo me veramente siamo in una fase molto delicata, secondo me questa riforma non è positiva, troppo rischiosa. Silvio Berlusconi questa mattina in un'intervista al Messaggero, per chi la vuole leggere, ha confermato che vuole ricandidarsi, che si dice certo che la Corte dei diritti di Strasburgo gli darà la possibilità appunto di ritornare in campo e quindi lui dice il centro-destra non ha bisogno di un nuovo leader perché ritornerò io. Marcello Foa. Sì, beh insomma diciamo così per ragioni anagrafiche mi sembra così un auspicio di Berlusconi che però mi sembra difficilmente realizzabile, insomma una persona di 80 anni ovviamente è difficile per vedere che possa costruire il futuro del proprio paese, se lui dovesse tornare in campo potrebbe rimettere in discussione quella che sembra di fatto essere la leadership potenziale di Salvini che oggi appare i leader più forti, però il loro problema... Ecco proprio Salvini, scusa se ti interrompo, proprio Salvini ha detto sarei felice se Berlusconi potesse tornare, questo significa però che dovrà fare le primarie. Sì certo, se c'è un gioco di primarie c'è un gioco di linea politica, cioè in fondo quel che sta emergendo voglio alzare un po' lo sguardo, quel che sta emergendo nel mondo e probabilmente quel che accadrà anche il 4 dicembre è un ribaltamento delle priorità, cioè noi abbiamo visto la Brexit che ha dato un colpo molto duro all'Unione Europea ma anche a queste elite transnazionali che di fatto hanno un ruolo molto importante nella gestione degli affari internazionali e della determinazione anche del destino dei popoli europei. Trump ha sconfitto la rappresentante di questa elite che era Hillary Clinton, come ormai ben sappiamo. Domenica si vota in Austria dove molto probabilmente verrà eletto il candidato dell'FPE, cioè di un partito che potrebbe essere considerato l'equivalente della Lega o comunque di una destra nazionalista che in altri tempi era inaccettabile. Allora il problema che si pone molto forte è l'Italia vuole continuare ad essere nella scia di quella che è stato l'equilibrio dei poteri attuali, delle logiche dei poteri attuali o vuole porsi al di fuori andando a percorrere lo stesso percorso dell'UKIP in Gran Bretagna, di Trump, dell'Austria e probabilmente domani anche dell'imparte della Francia di Marine Le Pen. Questo è il vero punto che si pone al centro-destra e finché non risolveranno questo dilemma chiaramente sarà difficile determinare il nome del leader.